Un campetto sportivo polifunzionale è stato inaugurato questa mattina nella scuola elementare Angiulli nel borgo dei Vergini all'ingresso del rione Sanità. Credo che lo sport in una città difficile come Napoli sia la via d'uscita per ragazzi che vivono in quartieri difficili come questo. Ne sono proprio certo, convinto. Ho toccato con mano quanto sia vero che il calcio unisce tutti quando 15 giorni fa abbiamo inaugurato il campo a Rione Traiano. È stato commovente in un modo pazzesco. La struttura è stata proposta e finanziata come intervento di mecenatismo dall'associazione Progetto a Bracci e realizzata in collaborazione col comune di Napoli e con la terza municipalità. Qua è gioioso perché sono bambini quindi sono particolarmente contento di averlo fatto perché facciamo divertire bambini. Tra l'altro vedo veramente una presenza multietnica, vedo bambini anche handicappati quindi questo ci riempie ancora di più di gioia. Il progetto è nato tramite Paolo Siani con una serie di incontri che abbiamo fatto al comune e abbiamo individuato i primi tre campi di cui questo è il terzo che abbiamo portato a termine. Per la verità poi ne abbiamo fatto un quarto e il quinto a Scampi è già finito. Lo inaugureremo spero presto.